l'ATI è tra i più importanti produttori di termoplastici tecnici per beni durevoli siamo un'azienda familiare giunta oggi alla terza generazione oggi stiamo investendo molto sulla digitalizzazione dei processi produttivi in ottica industria 4.0 migliorando il livello di competitività ma soprattutto di impatto ambientale. Il tema della sostenibilità è a noi molto caro stiamo investendo in fotovoltaico ed energie rinnovabili ma per poter ambire a ridurre il nostro impatto energetico bisogna prima di tutto acquisire una consapevolezza dei nostri consumi ed è qui che entra in gioco il software EcoStructure Power Monitoring Expert di Schneider Electric che offre la possibilità di raccogliere i dati dal campo e visualizzarli tramite un sistema di dashboard e analisi questo ci permetterà di darci specifici obiettivi di miglioramento anche perché siamo un'azienda molto energivora consumiamo circa 20 milioni di kilowattora all'anno per produrre fino a 36.000 tonnellate di materiale. La plastica è stata spesso demonizzata come materiale fortemente inquinante ma non sempre se ne conoscono le potenzialità in termini di economia circolare Il concetto di sostenibilità è parte del nostro DNA e il vantaggio del termoplastico è proprio quello di poter essere rilavorato per n cicli produttivi. Questa potenzialità la conosce bene Schneider Electric che come nostro cliente ci richiede materiali in economia circolare e anche prodotti green come biopolimeri ottenuti da fonti rinnovabili. Avere poi Schneider Electric come fornitore partner ci aiuta senza dubbio a raggiungere questi obiettivi di sostenibilità ponendo la digital transformation al servizio dell'ambiente